Sono al sicuro le opere rigue ed idrauliche nei territori di competenza del Consorzio di Bonifica Terno Sagittario dopo le operazioni di manutenzione. Oltre ai quattro operai fissi addetti alla manutenzione, Consorzio impiegato nell'operazione di cura delle strutture e delle condotte, 25 operai stagionali. Le operazioni hanno riguardato impianti che hanno bisogno di attrezzature particolari e personale specializzato. Per questo il Consorzio, proprio per garantire la massima efficienza delle attività da svolgere, ha fatto ricorso a ditte esterne. Gli obiettivi dell'operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in atto dall'ente consortile, nei comprensori di sua competenza, Vale Peligna, Vale del Terino, Valle della Terno, si è concentrata nel periodo tra marzo e ottobre. Sono state numerose le attività svolte che hanno interessato un comprensorio complessivo di oltre 18.000 ettari di terreno, suddivisi nei tre ambili di competenza del Consorzio. In particolare, le operazioni di manutenzione sono state così ripartite. 13.000 ettari nel comprensorio della Valle Peligna, 3.500 in quello della Valle della Terno, 2.000 in quello della Valle del Tirino. La gestione dell'irrigazione per la stagione 2018 è stata disciplinata dalla deliberazione del presidente Ernesto Zuffata, in data 23 maggio 2018, e tutto si è svolto in piena regolarità. A conclusione delle attività agricole, non più tardi dei primi dieci giorni di novembre, gli impianti irrigui saranno svuotati.